Paolo Adamo si è conclusa la prima del Prime Coppa, ti chiedo solo un giudizio sulla gara. Una bella gara, ho visto un bel gioco da parte nostra, abbiamo costruito tante azioni, i ragazzi non mi sono piaciuti, certo abbiamo perso meritatamente, ma ho visto comunque che il lavoro del mister insieme ai ragazzi è stato un bel lavoro. Veniamo da una preparazione lunga, paghi anche un po' anche questo, ma un po' inconcludenti lì davanti, c'è un po' un tiro di sfortuna, un errore, abbiamo fatto due errori e li abbiamo pagati tutti e due, quindi complimenti all'Olympic, cos'altro dire, andiamo avanti, proviamo, sicuramente faremo qualcosa di meglio. Comunque a prescindere dai risultati un girone è abbastanza stimolante in vista del campionato. Assolutamente sì, sono convinto che è una squadra che farà bene, perché abbiamo fatto investimento su tanti giovani, abbiamo secondo me una bella rosa che alla lunga sicuramente farà un ottimo campionato. A proposito di tanti giovani, insomma anche da esperienze importanti e che molto probabilmente poi li rivedremo anche in categorie superiori. Speriamo, speriamo, speriamo. Abbiamo investito molto sui giovani, speriamo di, proprio per questo, un progetto importante proprio per cercare di fare il meglio possibile per i prossimi anni. Io sono convinto che quando vuoi fare qualcosa di bello devi partire sempre da loro, perché sono una risorsa importante per noi, per la società e bisogna credere nei giovani. E proprio per questo forse ci potrebbe volere un pochino più di tempo rispetto magari? Sicuramente sì, ma generalmente noi siamo una classica, una squadra che poi raccoglie sempre dopo, fa un lavoro, il allenatore e il nostro ministro faranno un lavoro meticoloso, sicuramente raccoglie sempre un pelo dopo, ma ne sono certo, ho visto delle belle cose, gran belle cose da parte di tutti. Abbiamo avuto solo un po' troppa sfortuna e un po' troppa ingenuità in alcune fette di gioco.